vediamo subito il risultato di una lavastoviglie carica per due coperti che hanno mangiato il primo o il secondo e il controllo useremo il lavaggio di un'ora usando una pastiglia quantum ultimate eccola qui io aggiungerei comunque non solo spruzzino del classico detersivo per piatti così già nel risciacquo comunque fa il suo lavoro mettiamo dentro impostiamo il programma di 59 minuti e 65 gradi e ci vediamo tra 59 minuti e ora vediamo il risultato da buon'ora è adeguato al programma impostato